Musica Allora, sì, è stato molto gratificante, interessante e piacevole partecipare a questo progetto. In particolare parlo come operatrice di un servizio formazione, perché come operatrice di un servizio formazione e anche come partecipante, insomma come una persona che ha in qualche modo contribuito alla progettazione e alla conduzione di alcune attività del progetto. Progetti come questi consentono di mettere in luce anche ambiti clinico-assistenziali che in genere sono poco conosciuti. In particolare è stato possibile per i colleghi infermieri, per i colleghi medici, in qualche modo raccontarsi, raccontare il proprio lavoro, la propria quotidianità, con le difficoltà ma anche con i propri successi. La forma narrativa che ha avuto il progetto ha permesso poi anche di intrecciare le storie dei clinici, degli operatori sanitari e quelle delle giovani coppie, delle famiglie, mamma e papà, che sono saggiaggetti delle loro cure e ha permesso di far conoscere sempre al pubblico sempre più vasto quelle che sono anche le elevate competenze che vengono quotidianamente espresse da questi professionisti, da questi operatori nella cura di questi piccoli.